Concessionari all'auto, a montagna in Valtellina. Sarà il Mela Vertical, il chilometro verticale che da Villa di Tirano sale a Mangengo di Sasso, ad aprire ufficialmente la 29esima edizione della Sagra della Mela e dell'Uva, la manifestazione enogastronomica dedicata a quelli che sono i frutti valterinesi per eccellenza. Domani atleti e semplici appassionati potranno sanare le proprie fatiche con la gustosa cena a base di prodotti tipici presso il rinnovato polifunzionale di Villa di Tirano. Si proseguirà giovedì 5 ottobre alle 20.30 presso la Sala Convegni Contrada a Beltramelli con la conferenza a cura di Coldiretti Sondrio, la valorizzazione del territorio nel legame virtuoso fra prodotti locali, enogastronomia e turismo, che avrà in qualità di relatore il professore Alessandro Capocchi del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendale e Diritto per l'Economia dell'Università degli Studi Milano Bicocca, una sagra che quest'anno non vuole dimenticare il trentennale dell'alluvione della Valtellina e lo fa rivolgendosi ai più piccoli. Venerdì prossimo 6 ottobre presso l'auditorium Mascioni, anni 11, si terrà la conferenza dedicata agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 1987, l'alluvione in Valtellina, racconti di chi ha vissuto in prima persona le vicende dell'epoca, con la proiezione del filmato prodotto dalla nostra emettente Telesondrio News, 1987-2017, la memoria che non deve morire. In serata invece a partire dalle 19, ripartono gli appuntamenti enogastronomici con Amela Birra, una festa con l'orchestra spettacolo Dolomita in Birband e cucina tipica tirolese, un piccolo antipasto prima dei due appuntamenti per Antonomasia della Sagra, sabato 7 e domenica 8 ottobre, le due giornate che esaltano i prodotti agricoli vertelinesi per eccellenza, in cui la Mela delizierà ogni piatto che sarà portato a tavola, a pranzo e a cena. Tra gli appuntamenti garantiti, le gite ed escursioni, da affrontare con qualsiasi mezzo, a piedi, in bicicletta, oppure con i tornino e le carrozze dei cavalli o persino in elicottero. Non mancheranno le esposizioni dei prodotti artigianali ed agricoli dalla valle, oltre a momenti ludici e ricreativi per adulti e bambini, così come non poteva mancare il concorso La Mela Migliore di Valtellina, che andrà a primare la miglior mela stark e golden dei produttori locali.